Preghiera del mattino Signore, Padre Santo, con Te desidero iniziare anche questo nuovo giorno. Guardo intorno a me e vedo tante persone che vivono giorno per giorno. Sono senza un solito sostegno, in balia delle tentazioni della nostra quotidianità. Cosa posso fare? Devo essere triste per la loro superficialità, inquieto per il loro destino? Signore, io Te le affido e Ti prego di offrirmi il Tuo sguardo per vederle ed il Tuo cuore per aiutarle. Amen.